Tu preghi e poi, seconda domanda, Dio risponde alle tue preghiere? Trovi nella preghiera un grande aiuto che fortifica la tua fede, oppure a volte ti vieni in testa che sia quasi inutile pregare? Io prego, ma non vedo risultati. Anche se spesso ce lo dimentichiamo e in altri momenti il nostro orgoglio non vuole farci riconoscerlo, vacilliamo molto, siamo un popolo che ha sempre bisogno di Dio. E anche se non ci pensiamo, noi dipendiamo da Dio costantemente. Quando siamo forti e quando siamo deboli, dipendiamo da Dio. Dio ci ha creati e ha creato la preghiera per insegnarci a guardare a Lui per tutto. Dio vuole che viviamo la nostra dipendenza su di Lui. E la preghiera ci ricorda che siamo bisognosi. La preghiera ci fa riconoscere che la risposta è da Dio quando arriva. Se io non prego e mi arriva la risposta, onestamente non sempre mi viene in testa, questo è Dio, questo è Dio. Quando tutto va liscio, e io non ho pregato per tutto, e tutto va liscio, onestamente è molto difficile dire, Dio, tu mi hai provveduto questo, e tu mi hai provveduto quello. E non ci penso. Quindi la preghiera ci mette in una condizione di riconoscere chi siamo davanti a Dio. Ci aiuta a riconoscere il nostro bisogno e ci aiuta a riconoscere le risposte di Dio. Per poter ringraziarlo di più. Per poter adorarlo. Solo tu, solo tu hai potuto fare quello. La preghiera ci apre una porta fondamentale, quella porta di poter confessare i nostri peccati. Per ottenere il perdono. Che immenso privilegio è la preghiera. E quanto è importante. Che cos'è la preghiera? Allora, in sé, la preghiera è semplicemente parlare con Dio. Si può parlare, pregare a chi non è Dio. Si può pregare ad un falso Dio, ad un cosiddetto santo. Questa è un'abominazione a Dio. Allora, in questo sermone voglio parlare della preghiera vera, cioè la preghiera al vero Dio. La preghiera può essere fatta, come sappiamo, ad alta voce. Può essere fatta insieme ad altri. La preghiera può essere fatta dentro la mia mente. Io prego tantissimo nella mente. Anche di notte posso pregare ore di notte. E parlo, parlo con Dio. Senza aprire bocca. Ma per Dio è uguale. Perché vede tutto. Dio ci insegna ripetutamente, con insegnamenti e con esempi, quanto la preghiera è importante. Per esempio, la Bibbia ci insegna a pregare sempre. Tanti brani ci insegnano questo. Vi leggo alcuni. In Luca 18 Gesù racconta la parabola della vedova con il giudice ingiusto. E lo scopo della parabola qual è? Vi leggo, Luca 18, 1. Poi, proposi loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare, senza stancarsi. Il fatto che tu non vedi risposta, tu non devi smettere di pregare. Luca 21, 36, Gesù dichiara Preghiamo sempre in ogni tempo. Tante altre cose. I Romani 12, 12. Siate allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Efezini 6, 18. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito. Vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Colossesi 4, 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa, con ringraziamento. Primo Pietro 4, 7. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. Ci sarebbero anche tanti altri brani, ma credo che sia già chiaro. Noi dobbiamo essere un popolo che prega. Che prega. Dovrebbe essere una parte grande di ogni giorno della vita, di ogni situazione, di ogni avvenimento. Dobbiamo pregare. Ma in che senso dobbiamo pregare? Come dobbiamo pregare? Prima di tutto, la vera preghiera che viene insegnata nella Bibbia a noi, ci aiuta, prima di tutto, lo scopo della preghiera non è cambiare l'idea a Dio. Non è quello. Se io chiedo abbastanza, Dio mi farà quello che voglio. Quello non è lo scopo della preghiera. E se tu sei deluso e dici, beh, non serve più pregare, molto, molto probabilmente non stavi pregando assolutamente in modo giusto. Prima cosa che la preghiera fa è ci aiuta a riconoscere chi siamo e chi è Dio. Cioè, nella preghiera mi metto nella posizione di dire, tu sei Dio, dipendo da te, tu sei la mia vera e unica speranza, io sono piccolo e bisognoso e confido in te. Vengo a te, vengo a te, opera tu, oh Signore, opera tu. Quindi, la preghiera mi mette in posizione di riconoscere chi sono io nei confronti di Dio. Chi sono io nei confronti della mia vita. Se io credo di farcela da solo, io sono forte, io non prego. Ma se io non sono così stolto da credere di farcela da solo, io so che ho bisogno di pregare. Nella preghiera riconosciamo la nostra piccolezza e la grandezza di Dio. La preghiera che Dio accetta è la preghiera fatta con umiltà. Non si può pretendere da Dio, ma bisogna piuttosto umilmente chiedere a Dio, confidando che quello che Egli, nella sua sovrana e perfetta volontà, sceglierà di fare, sarà la cosa migliore. Umili, Gesù Cristo. Se è possibile, passi oltre a me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Si è fatta la tua volontà. Quindi, questi sono alcuni atteggiamenti da avere nella preghiera. Però la preghiera non è principalmente per fare richieste. Tanti non credenti che portano il nome di credenti pregano molto, ma è un elenco di richieste. Quello che vogliono loro. Quello, ma richieste, non dico quello che voglio io, ma richieste è una parte importante della preghiera, ma mica che è l'unica parte, è una parte. E vorrei parlare degli altri aspetti della preghiera, gli altri componenti della preghiera, che sono molto importanti. Per esempio, una parte fondamentale, basilari, e bisogna iniziare là, serve quale? Dove bisogna iniziare con la preghiera? Perché se no, le altre parti non vengono neanche accolti da Dio. Confessioni di peccato. Confessioni, onni di peccato. Perché finché rimango nel peccato, c'è una barriera fra me e Dio, che ostacola la mia comunione con Dio, ostacola le mie preghiere. Perché? Ascoltate quello che Dio dice Dio al suo popolo, Israele. E come i loro peccati facevano sì che Dio non ascoltava le loro preghiere. Leggo Isaia 59, 1 e 2. Dio parla con il suo popolo. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Se tu stai andando avanti nel tuo orgoglio o in qualche altro peccato e non vuoi riconoscerlo, non vuoi confessarlo, non vuoi umiliarti, tu puoi fare a meno che pregare. Tu puoi urlare a Dio, non ti ascolterà, non perché non è capace, e non perché non potrebbe cambiare tutto nella tua vita, ma perché vuole per primo che tu ti metti nella posizione giusta, cioè confessare i tuoi peccati. Dio dichiara che non ascolta le nostre preghiere finché non confessiamo il nostro peccato. E quindi, quando sono ancora nel peccato, l'unica preghiera che viene accolta da Dio è che un mente dice, Signore, ho peccato contro di Te. Che vuol dire? Confessare i peccati vuol dire non solo, oh Signore, ho fatto male. No, voglio e devo nominare i miei peccati, specificamente. Senza giustificarmi, eh Signore, ho mentito. Perché? Perché? Perché avevo timore di quello che mi avrebbero detto. Quello non è confessare un peccato, quello è giustificare un peccato. Sì, Signore, ho scattato perché ero molto stanco e mi avevano provocato, quindi perdonami che ho scattato. Io, perdonami, in base a quello che ho detto, non sono colpevole. Era la mia stanchezza e che mi avevano provocato che ha causato il mio peccato. Se questo fosse vero, non avrei bisogno di perdono. No, confessare il peccato, oh Signore, perdonami, ho scattato che era mio orgoglio ed era dentro di me e la situazione e la mia stanchezza ha dimostrato quello che io avevo nel cuore. Il modo che mi hanno trattato, che era ingiusto, ma non ha provocato il mio peccato, Signore, ha solo rivelato quello che avevo dentro. E io ho bisogno di perdono per quello che avevo dentro, che è uscito. E quindi, dobbiamo confessare i nostri peccati tranne la presenza di Dio stesso. E quindi, oltre a confessare i peccati, certamente, è sempre assolutamente importante considerare con chi stiamo parlando, con il Dio Santissimo. E' importante perciò di lodare Dio, lodare Dio, inalzare Dio. Dio è glorioso, Dio è maestoso. E' giusto riconoscere la gloria di Dio, la maestà di Dio, la santità di Dio quando entriamo nella sua presenza. è importante focalizzare non sui nostri problemi, focalizzare su Dio. Quante volte preghiamo guardando in giù ai problemi e quasi neanche pensando chi è questo Dio a cui stiamo pregando. Siamo focalizzati su quello che vogliamo da Dio. Dobbiamo ricordare con chi stiamo parlando nella preghiera. Gesù insegnando ai discepoli e a noi a come pregare nel Padre Nostro inizia riconoscendo la maestà di Dio. Ricordate Padre Nostro non è le parole da dire è i concetti ed è molto abbreviato e per esempio Gesù inizia Padre Nostro che sei nei cieli tu che sei nei cieli sta riconoscendo la gloria di Dio la maestà di Dio l'onipotenza di Dio e dobbiamo pregare noi così leggo Atti 4 Pietro Giovanni arrestati minacciati di non predicare più nel nome di Gesù e loro tornano dai credenti le autorità avevano minacciato gravi conseguenze se dovessero mai più predicare nel nome di Gesù Cristo e loro raccontano questo alla Chiesa in Atti 4 come iniziano la loro preghiera un gruppetto con l'autorità dello Stato contro di loro all'udire ciò alzarono ad un'aminità la voce a Dio e dissero Signore Tu sei il Dio che hai fatto il cielo la terra il mare e tutte le cose che sono essi e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo perché si sono addirati le genti e i popoli hanno macchinato cose vane i re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo perché proprio contro il tuo santo figlio Gesù che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabolito che avvenissero e questa è l'introduzione della loro preghiera questo è quello che dicono prima di arrivare a qualsiasi richiesta oh signori aiutaci perché siamo in pochi no iniziano andando a lungo di chi è questo Dio onnipotente con cui stavano parlando infatti questo è tipico nelle preghiere della Bibbia questo dovrebbe essere tipico nelle nostre preghiere per una cosa da gloria a Dio cioè quando io prego così sto dando gloria a Dio tu che sei il creatore tu che sei il sovrano tu che sei in controllo della mia situazione io sto dando gloria a Dio e non solo fortifica la mia fede se io sto parlando per modo di dire più della potenza di Dio che della grandezza del mio problema così succede alla mia fede anzi quanto è importante non focalizzare i suoi problemi oh signori è terribile non ce la faccio è troppo duro sta durando troppo lungo è troppo forte per me sto focalizzando sulla grandezza del problema e dove c'entra Dio lui è lì da parte nei miei pensieri spero vagamente che quel Dio che non conosco tanto bene possa spero che possa in qualche modo aiutarmi ma non sono mica sicuro pregando così e rimango pieno di dubbi e torbato se io invece imparo a predicare a pregare come la Bibbia mi insegna signori tu sei in controllo tu mi hai creato hai creato quelle persone e tu stai gestendo tutte queste situazioni e tu hai sempre gestito tutto perfettamente e quando hanno accorso fisso Gesù non era quando volevano loro che era anche un anno prima e non era dopo la Pasqua era il giorno che tu avevi stabilito nel modo che tu avevi stabilito tutto e la mia situazione sta andando come tu hai stabilito allora signore io sono debole e la situazione è pesante più di me ma tu sei Dio e perciò io vengo a te e tu puoi e tu vuoi curarmi in questo e ti prego di curarmi fratelli e sorelli due tipi di preghiere uno indebolisce la mia fede e non dà gloria a Dio l'altro dà gloria a Dio e fortifica la mia fede è come io scelgo di pregare quindi nella preghiera vogliamo adorare Dio vogliamo dire signore io ho questa lotta con pensieri spagliati cattivi storti quello che sono e abbiamo tutti quella lotta ma tu sei più potente dei miei pensieri e le tue verità schiacciano i miei pensieri falsi grazie a Dio e tu agisci non in base ai miei pensieri ma in base a quello che tu hai determinato perciò io vengo a te chiedendoti aiuto quindi bisogna confessare i peccati bisogna lodare Dio e riconoscere chi è e poi bisogna ringraziare Dio quanto è importante abbondare nel ringraziamento la Bibbia ci comanda questo Dio è la fonte di ogni bene in Giacomo dice questo ed è giusto ed è importante ringraziare Dio in modo preciso specifico in modo ampio ringraziare Dio abbondantemente ogni giorno tanti versetti dicono questo leggo primo testo non dicesi 5 18 in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi Efessini 5 19 a 20 dichiara parlandovi gli uni gli altri con salmi inni e cancici spirituali cantando e lodando col vostro cuore il Signore rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo se tu sei abbattuto se tu sei turbato se tu sei disperato io ti dico tu non stai abbondando nel ringraziamento ti garantisco non stai abbondando nel ringraziamento e soprattutto non per i beni materiali per quanto è anche giusto ma soprattutto per i benefici spirituali abbiamo sentito stamattina in Efessini capitolo 1 che noi abbiamo quante benedizioni spirituali in Cristo Gesù abbiamo ogni benedizione spirituale abbiamo tutte le meravigliose promesse abbiamo Gesù Cristo che è la nostra sapienza giustizia e santificazione abbiamo di che ringraziare Dio ringraziare Dio ci aiuta a ricordare la fonte della benedizione di cui ne abbiamo in infinità una persona che ringrazia poco è una persona che non riconosce quanto è benedetto e quindi non può star bene perché non riconosce quanto bene sta forse non starà bene un altro motivo per cui il ringraziamento è così importante perché ci aiuta a vedere i nostri problemi e bisogni in una prospettiva vera se io ho bisogno in dieci campi nella vita e Dio provvede in nove dei campi in modo ampio e c'è solo un campo che ancora manca e se io completamente non penso a quei nuovi campi e penso solo a quest'unico campo ma non ho questo ma non ho questo ma non ho questo come possiamo fare io sono tutto abbattuto dimenticando che Dio ha provveduto nuovi campi e come ha fatto quello provvederà a questo e quindi io starò male quando potrei star bene oh signore grazie grazie guarda come ha provveduto qua e qua e qua e qua e qua e qua e qua mi manca solo questo e tu provvederai anche quello trasforma la mia prospettiva se io se io ringrazio come pratica vedrò i problemi e sarò disperato sarò scoraggiato sarò abbattuto invece ma anche un'altra cosa se io non ringrazio vedrò i problemi come grandi e vedrò Dio come piccolo se io sto concentrando su questo problema dimenticando le nuove cose in cui Dio ha già provveduto io non vedrei la grandezza di Dio ma vedrò la grandezza dei miei problemi sono pensieri falsi potrei credere che Dio sia lontano ma perché non rispondere qui ha già risposto in tutti i nuovi altri campi ma io sto avendo pensieri storti perché non sto ringraziando quindi la Bibbia ci insegna di portare ogni peso a Dio ogni peso piccolo o grande però accompagnato da ringraziamento conosciamo tutti Filippesi 4 6 non siate in ansietà per cosa alcuna ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese noti a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento stai ringraziando Dio stai ringraziando Dio è una grande parte della tua giornata dei tuoi pensieri quindi domanda stai confessando i tuoi peccati stai lodando Dio riconoscendo chi è questo grande Dio e stai abbondando nel ringraziamento grazie a Dio possiamo portare ogni peso a Dio dobbiamo portare i pesi a Dio non possiamo noi portarli Dio non vuole che tentiamo portare i nostri pesi da soli Dio è un aiuto sempre pronto in ogni difficoltà quindi è importantissimo portare anche i pesi a Dio nella preghiera abbiamo letto in Filippesi 4 6 di non essere in ansietà per cosa alcuna ma in ogni cosa di portare ogni peso a Dio con preghiere e suppliche e grazie a Dio grazie a Dio non c'è peso troppo piccolo per Dio e non c'è peso troppo difficile per Dio questo è il cuore di Dio che mi permette di portare anche i pesi piccoli la potenza di Dio mi permette di portare i pesi più pesanti a Dio e Dio mi accoglierà in Gesù Cristo abbiamo in Cristo Gesù libero accesso a Dio in ogni situazione però quando porto richieste a Dio non voglio solo portare cose per me voglio portare pesi che ho che Dio sia glorificato io voglio desiderare la gloria di Dio e quindi voglio pregare non solo per me e la mia famiglia voglio pregare per il popolo di Dio per altri credenti per il nome di Dio per la gloria di Dio che il Vangelo sia sparso che i credenti siano fortificati se guardiamo al Padre nostro vediamo che richieste che Gesù ci insegna a fare non sono solo per i nostri bisogni c'è dacci il nostro pane quotidiano e poi ci sono richieste a livello più spirituale liberaci dal maligno perdonaci come noi perdoniamo ma poi ci sono richieste che rispecchiano un profondo desiderio non per una vita più facile ma per la gloria di Dio per la gloria di Dio perché quando noi desideriamo la gloria di Dio allora le nostre preghiere saranno allineate con la volontà di Dio e allora Dio risponderà alle nostre preghiere se noi stiamo desiderando qualcosa che non è allineata con la volontà di Dio non risponderà come chiediamo e vuole che noi ci alleniamo con la sua perfetta volontà che porta gloria a lui e bene a noi e anche agli altri infatti quando le nostre preghiere sono secondo la volontà di Dio possiamo essere sicuri che Dio le esaudirà questo è il punto di primo Giovanni 5 14 15 notate che è fondamentale che le nostre preghiere siano secondo la volontà di Dio primo Giovanni 5 14 15 questa è la fiducia che abbiamo davanti a lui se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce e se sappiamo che egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che le abbiamo chiesto quanto è importante che le nostre preghiere non siano fondate dalla nostra carne quello che la carne vuole ma che vengono da un cuore che desidera la gloria di Dio in Giacomo 4 leggiamo della differenza da una preghiera che Dio ascolta e una preghiera che Dio non ascolta dipende dal cuore che sta dietro la preghiera leggo Giacomo 4 da 1 a 3 da dove vengono le guerre e le contese fra voi non provengono forse dalle passioni che guereggiano nelle vostre membra voi desiderate e non avete voi uccidete e portate invidia e non riuscite a rottanere voi litigate e combattete e non avete perché non domandate voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri quando preghiamo chiedendo quello che vuole la nostra carne quando il mio desiderio è di non portare il peso di una prova anziché di glorificare Dio oh ti prego toglimi cosa prova io non mi interessa la gloria di Dio mi interessa non avere il peso io sto domandando per spendere nei miei piaceri di avere meno pesi e Dio non risponde quando desideriamo le cose della terra anziché desiderare più di Dio stiamo pregando male e Dio non rispondere alle brutte preghiere infatti in base a quello che abbiamo letto finora in altri brani possiamo capire che ci sono vari motivi per cui Dio non risponde alle nostre preghiere certamente abbiamo già visto se ho peccato non confessato e può essere un peccato che ormai fa parte del mio carattere io mi lamento io sono orgoglioso io mi vesto così io parlo così ormai non ci penso più io reagisco così e non ci penso ma è un peccato e perciò mi chiedo perché Dio non risponde alle mie preghiere magari abbiamo bisogno di dare una mano a ognuno agli altri e riconoscere questo sai che quel modo di rispondere è lamentarti lamentarmi come? io rispondo sempre così può darsi può darsi ma non vuol dire che non è un peccato quindi abbiamo visto che questo è un ostacolo abbiamo visto che le nostre preghiere possano essere focalizzate su di noi e non sulla gloria di Dio e quindi è buono cosa sto chiedendo nelle mie preghiere in questi giorni cosa sto chiedendo è veramente per la gloria di Dio o è quello che io vorrei quello che io vorrei cioè io voglio questo non mi importa di quello mi importa questo no devo valutare è utile dobbiamo crescere non desiderare la gloria di Dio attenzione non ho detto che non desiderare la gloria di Dio abbastanza vuol dire che non sei salvato no no quello ho detto dobbiamo crescere in tutto nella vita cristiana nessuno di noi nessuno io per primo nessuno desidera mica abbastanza la gloria di Dio siamo tutti mancanti in questo e quindi dobbiamo tutti impegnarci a crescere impegniamoci a vedere più la gloria di Dio e perciò chiediamo Signore fammi vedere la tua gloria ricordate la richiesta di Mosè e questo ci stimolerà a voler vedere Dio glorificato e a volte nonostante che abbiamo confessato i peccati umilmente e desideriamo la gloria di Dio comunque le nostre preghiere non vengono esaudite perché cioè mi sono esaminato e perfino ho confessato tutto quello che ho visto e ho pregato la preghiera di Davide 139 esaminami e fammi sapere se c'è qualche via in cui in me quindi cuore umile oh glorificati ti prego e poi porto richieste a Dio e Dio non risponde perché? ok ci sono vari motivi e sono motivi che possono darti gioia e vi leggo un esempio di un motivo che può darci grande gioia era il secondo corinzi 12 e l'apostolo Paolo aveva ricevuto una benedizione incredibile che Dio non dava a nessun altro se non solo a Giovanni in Apocolisse di aver visto cielo cioè Dio non dà questo se uno ti dice oggi oh io Dio mi ha portato in cielo è un bugiardo no ha dato all'apostolo Paolo e all'apostolo Giovanni per darci scrittura ma noi no ma Paolo spiega che ha avuto questo questo privilegio che è una cosa non normale per proteggerlo dalla superbia Dio gli mandò una scheggia nella carne uno spirito per affliggerlo uno spirito maligno Dio controlla Satana l'afflizione era così terribile che Paolo credeva di non sopportarla non ce la faccio e perciò ben tre volte pregò il Signore di togliere quella scheggia ma il Signore ha risposto in un modo diverso di quello che Paolo ha pregato anche se conosciamo il brano ci conviene sentirlo di nuovo per ricordare che Dio sa rispondere nel modo migliore nella tua situazione Paolo era convinto non ce la faccio più questo dolore è troppo e forse tu hai un peso che per te sei già ai limiti e forse hai pregato più volte e ti chiedi perché non mi rispondi perché non mi togli questo peso è la risposta Gesù Cristo il Signore dà a Paolo e re per noi leggo secondo corinzi 12 da 7 a 10 inoltre affinché non mi insupervisca per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insupervisca a questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allantanasse da me ma egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza perciò molto volontieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me perciò io mi diletto nelle debolezze nelle ingiurie nelle necessità nelle persecuzioni nelle avversità per amore di Cristo perché quando io sono debole allora sono forte se tu con cuore puro hai confessato i tuoi peccati e se tu desideri la gloria di Dio come Paolo e davanti a Dio confedi tu porti un peso che a te sembra impossibile no Signore non ce la faccio più e Dio non risponde in base a quello che hai chiesto io prego che Dio ti aiuterà a capire che non è una mancanza di amore da parte di Dio e non è che il cuore di Dio è chiuso verso di te e non è che Dio non potrebbe fare è perché Dio vuole darti più di quello che tu gli hai chiesto Dio vuole darti più della sua grazia Dio vuole darti più della sua potenza la grazia che viene perfezionata quando abbonde in mezzo a certe sofferenze perciò tu credente che stai soffrendo confide in Dio la sua cura è perfetta il suo tempo è perfetto e gli risponde ma non sempre con quello che chiediamo perché a volte vuole darci molto di più di quello ringraziamo Dio che ci cura nel modo perfetto anche quando noi non sappiamo cosa pregare Paolo non sapeva pregare per più grazia per essere fortificato lui credeva sinceramente che la cura era di togliere alleggerire la prova era convinto sbagliava e Cristo gli ha risposto no no Paolo ho qualcosa di più grande per te ti lascio ti lascio quella sofferenza ma ti do una grazia maggiore ci sono tanti altri insegnamenti sulla preghiera in Matteo 6 5 e 8 Gesù ci insegna alcune verità che voglio menzionare velocemente Matteo 6 5 e 8 e quando tu preghi non essere come gli ipocriti perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio ma tu quando preghi entra nella tua cameretta chiude la tua porta preghi il padre tuo nel segreto e il padre tuo che vedi nel segreto ti ricompenserà pubblicamente ora nel pregare non usare inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole non siate dunque come loro perché il padre il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gli chiediate molto brevemente due commenti non dobbiamo pregare per essere visti dagli altri questo non esclude pregare insieme la Bibbia insegna quando due o tre si riuniscono nel mio nome insegna di pregare insieme ma anche di pregare da soli ma non prego per essere visto quello vuol dire che la preghiera non arriva a Dio un secondo punto qui è di non usare inutili ripetizioni Dio già sa quello che ci serve cosa vuol dire la preghiera non serve per informare Dio e ne serve per convincere Dio oh ti prego signore ti prego ti prego ti prego oh signore aprimi quella porta chiudi quella porta fai questo oh ti prego signore fai quello ti prego fai quello fai quello ti prego signore fai quello fai quello fai quello fai quello non funziona così non è che Dio si stanca va bene va bene lo faccio come ogni tanto i genitori fanno che non dovrebbero fare perché stanno insegnando qualcosa di molto falso ai figli no no la preghiera non serve per convincere Dio di cambiare idea la preghiera serve per allineare la nostra volontà alla volontà di Dio signori questa prova è pesante ma sia fatta la tua volontà e man mano dico signore sia fatta la tua volontà poi Dio farà la sua volontà e sarà glorificato ed io sarò curato tante altre verità sulla preghiera per esempio dobbiamo non solo confessare i nostri peccati ma dobbiamo perdonare anche chi non ci ha chiesto perdono cioè c'è un aspetto dove chiedo io perdono quando la persona mi chiede ma c'è un aspetto prima di quello dove io nel mio cuore già perdono e dice il Signore ci pensi tu vi leggo di questo Gesù Cristo parla in Marco 11 di un ostacolo alla preghiera cosa fare ve lo leggo quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati allora quando la Bibbia dice se avete qualcosa contro qualcuno sta parlando di qualcuno ha veramente peccato contro te cioè tu hai qualcosa contro non che hai inventato no no hai qualcosa ha peccato contro di te nel senso vero non stare lì a pregare a Dio prima nel tuo cuore perdona quella persona ci pensa a Dio non tocca a te perché se tu non perdoni quella persona cosa succede stai peccando comincerai a avere amarezza comincerai a avere durezza comincerai a vedere il suo peccato questo quando c'è un vero peccato e non vedrai più il tuo e tu ti allontanerai da Dio quindi Gesù ci comanda di perdonare e poi ci si penserà a Dio a quella persona come ogni campo della vita cristiana possiamo e dobbiamo crescere nella preghiera cioè abbiamo letto l'importanza di pregare secondo la volontà di Dio come possiamo pregare così un impegno che ci aiuterà tanto a pregare più secondo la volontà di Dio perché manchiamo quello e quando studiamo le preghiere nella Bibbia ma non solo le leggo no io studio le preghiere della Bibbia li trovo Antico Testamento Nuovo Testamento li scrivo giù per carta o li batto che mi mette ancora più in testa poi valutandoli formulo io scusami la preghiera non deve essere solo spontanea la Bibbia non ci insegna mai la preghiera deve essere spontanea non deve essere spontanea non deve essere una cosa meccanica che io ripeto meccanicamente solo perché ho imparato da bambino no ma può essere una preghiera che io preparo valutando addirittura per noi che siamo genitori è importantissimo che impariamo noi a crescere la preghiera per insegnare ai nostri figli e la preghiera non deve essere spontanea quella è una noi che veniamo spesso da un mondo cristiano di nome ma non di fatto dove si prega molte preghiere memorizzate abbiamo fatto una reazione contro ah bisogna che non sia nulla scritto solo spontaneo dove è scritto questo ed è un esercizio molto utile che io penso a quello che dovrei pregare lo scrivo giù e poi prego in base a quello che ho scritto e così insegno ai miei figli di fare la stessa cosa che non vagano e pregono preghiere abomenevoli a Dio come se Dio fosse in cielo per dare a loro quello che la carne vuole io levo insegnare non pregate così ma come solo con minacce no le insegno scriviamo le preghiere che noi pregheremo stasera quando andiamo a letto e non solo per i figli quindi io studio le preghiere dalla Bibbia scrivo giù i componenti e cominciamo ok come posso pregare quello io non prego quello io voglio incorporare quello nelle preghiere comincio a scrivere preghiere oh quanto è un esercizio utile adesso vorrei chiudere prego ricordandoci e aiutandoci a vedere a pensare di più dell'immensità del privilegio di poter pregare a Dio cosa vuol dire che noi possiamo pregare al sovrano glorioso santo signore di tutto letteralmente entrare nella sua presenza per mezzo di Gesù Cristo quanto è importante che comprendiamo sempre di più l'immensità di questo privilegio quando Dio apparve a Mosè su Montessinae Dio ordinò in modo dettagliato come gli uomini dovevano adorarlo servirlo e cercarlo non ha lasciato a Mosè di decidere come voleva fare era molto pignolo se tu leggi Esero e Levitico e Numero e tutto quello tu dici caspita quanto Dio è preciso esatto sì Dio è preciso esatto e Dio ordinò che Arrone fratello di Mosè e i suoi quattro figli fossero sacerdoti e poi la loro discendenza nessun altro finché non è venuto Gesù che ha tolto lo sacerdote perché lui è il sacerdote ma per i giudei solo loro quindi questi cinque uomini all'inizio Arrone e i suoi quattro figli avevano il privilegio che nessun altro uomo aveva di poter entrare e fare i sacrifici a Dio di poter entrare direttamente nella presenza di Dio per offrire i sacrifici però poco dopo poco poco dopo che furono istituiti come sacerdoti due di questi figli Nadab e Abihu si avvicinarono a Dio per lodarlo in modo diverso di quello che egli aveva comandato un pochettino diverso non tanto diverso un pochettino diverso voglio leggere quello che successe Levittico 10 furono appena stabiliti come sacerdoti appena prima poi Nadab e Abihu fidi da Arone presero ciascuno sul turibolo vi misero dentro del fuoco vi posero sopra l'incenso e offrirono avanti all'Eterno un fuoco illecito che egli non aveva comandato loro allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò e morirono davanti all'Eterno qua Dio ci insegna che l'uomo non può avvicinarsi a Dio se non per quell'unica e stretta porta che Dio ha stabilito Gesù Cristo non esiste altra via l'uomo non potrebbe mai avvicinarsi a Dio per il proprio merito o come vuole Dio è un fuoco consumante perciò il fatto che in Gesù abbiamo libero accesso a Dio libero accesso è incredibile e meraviglioso noi uomini peccatori uomini pieni di debolezze pieni di errori macchiati noi possiamo entrare nella presenza stessa del Santissimo e glorioso Dio per adorarlo per ringraziarlo per confessare i nostri peccati e per supplicarlo o che Dio ci faccia comprendere l'immensità di questo privilegio non c'è nulla sulla terra paragonabile Dio ha cura di noi e noi possiamo entrare nella sua presenza con il più piccolo peso come con quello più grande e saremo accolti quando entriamo per quella porta di Gesù Cristo il nostro Somme Sacerdote e quindi chiudo leggendo ebrei 4 14 a 16 che ci parli di questo accesso a Dio e prego che resteremo meravigliati avendo dunque grazie a Dio avendo avendo dunque un gran Somme Sacerdote che è passato attraverso i cieli Gesù il figlio di Dio riteniamo fermamente la nostra confessione di fede infatti noi non abbiamo un Somme Sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però commettere il peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno fratelli e sorelle usiamo questo privilegio o che possiamo essere un popolo che prega sempre nel nome di Gesù Cristo Dio risponderà e se tu non hai Cristo non hai accesso ma tu puoi avere accesso se ti rivedi e ti aggrappi a Cristo preghiamo signore noi non comprendiamo l'immensità del privilegio di entrare nella tua santissima presenza non comprendiamo che la minima parte di quanto questo è grande è una porta stretta ma spalancata e quella porta è Gesù Cristo e quando noi ci umiliamo confessiamo peccati possiamo venire nella tua presenza per lodarti e tu sei degni di lode per ringraziarti e ne abbiamo di ringraziarti e per portare pesi a te e non solo per noi ma pesi per la tua gloria confidando che tu risponderai sempre nel modo migliore e nel momento migliore perché tu lo fai fortifica la nostra fede e noi ti ringraziamo che possiamo portare a te ogni peso e ti prego che facendo così riconosceremo di più le risposte che stai dando in continuazione ti prego questo grato per Gesù Cristo perché è per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo questo accesso allora nel nome di Gesù Cristo Amen grazie a tutti